Nome. Timothy Kreischer. Numero vittime. 9. Modus operandi. Stupro, arma da fuoco, strangolamento, accoltellamento. Timothy Kreischer è nato il 28 novembre 1944 in Pennsylvania, Stati Uniti. Fin da piccolo mostrava disturbi sessuali. All'età di 10 anni, Timothy iniziò a sviluppare una malsana ossessione sessuale ed emotiva con sua madre, e all'età di 13 anni iniziò ad avere i primi orgasmi spiando, attraverso serrature o finestre, donne e ragazze che si spogliavano. Si eccitava toccando l'intimo femminile. Ormai adulto, ha conseguito una laurea in amministrazione giuridica. Ha avuto i primi problemi con la legge nel 1951, per il furto di una bicicletta, poi nel 1960 per piccoli furti. Arruolato nella marina, è stato presto congedato per violenza sessuale. È il 1963. È stato condannato per stupro. Da lì in poi inizierà a fare dentro e fuori da galera per crimini a sfondo sessuale. L'uomo seguiva le sue vittime, studiava le loro mosse, poi entrava nelle loro case. Lì avveniva lo stupro. Ormai era diventato uno psicopatico predatore sessuale. I suoi impulsi stavano per diventare sempre più violenti, desiderava un godimento sempre maggiore e lo ha trovato nell'omicidio. Ora non si limitava solo allo stupro. Tutto è iniziato nel 1981. Deborah Shepard, 23 anni, trovata legata a letto, stuprata e uccisa con ripetute pugnalate. Mary Parsh, 58 anni, è stata rapita e portata in un luogo isolato. Lì è avvenuto lo stupro. Dopo il divertimento, il sadico le ha sparato un colpo di pistola alla nuca. Brenda Parsh, 27 anni. Trovata legata nel suo letto. Probabilmente il maniaco l'ha seguita fino a casa, l'ha spiata dalla finestra fino a quando la ragazza non è andata a letto, per poi irrompere, tramortirla, legarla, abusarne sessualmente e ucciderla a coltellate. Sheila Cole, 21 anni, morta strangolata. Virginia Livitte, 51 anni, stessa sorte di Sheila, così come Myrtle Roop, di 51 anni. Joy Starp, 29 anni, rapita e uccisa colpi di pistola. Mildred Wallace, 65 anni, violentata e soffocata. Ultima vittima, Margie Cole, 57 anni. Stuprata e brutalmente scannata a coltellate. C'erano poche prove che indicavano che uno degli omicidi o omicidi erano collegati o che erano stati commessi dalla stessa persona. La mancanza di tecnologia forense e del DNA all'epoca e i molteplici metodi di omicidio hanno reso difficile per gli investigatori collegare tutti i crimini a un singolo sospetto. Dopo parecchi anni però, grazie alle nuove tecnologie, è stato possibile riaprire il caso e confrontare il DNA trovato sulle scene del crimine con quello di alcuni sospetti. Il maniaco è stato arrestato nel 2007 e condannato a 13 ergastoli per l'accusa di molteplici stupri e omicidi.